Rocco Sufian Marra, nuova voce e nuovo volto del panorama pop trap piacentino con nome d'arte Atlas Itavele. Classe 96, debutta con un'iniziativa curiosa, un disco senza titolo né copertina. Sta a chi acquista il CD, interpretarne in significato e partecipare al contest. L'idea viene perché ho voluto cercare di coinvolgere il più possibile l'ascoltatore e appunto per fare in modo che possa darmi una sua visione di quello che io ho scritto e cantato. Con questa pandemia appunto il rapporto sociale è venuto a mancare, quindi il mio sogno appunto era quello di esibirmi in un live. Ho cercato di fare questa cosa per appunto incontrare il mio pubblico, anche se piccolo. I CD li consegno io di persona e quindi appunto per avere un dialogo con le persone che mi ascoltano. Dentro a questa copertina bianca, che musica, che messaggio si cela? Soprattutto forse indie rap, indie trap, ma non voglio nemmeno incasellarmi in qualche genere specifico. Ho un background rock, hip hop e anche il cantautorato italiano fa la sua parte. Bisogna cercarti sui social, Spotify, Instagram, con un nome curioso direi. Esatto, sì, il nome è Atlas Itabile, che ce l'ha diciamo un messaggio pro-life, soprattutto in questo momento.